Massimo grazie, io sono a disagio perché questa non è la mia platea, io sono abituato a parlare di credito alle piccole imprese, agli artigiani, qui diciamo nell'industria dell'asset management sono un pesce fuori d'acqua però sono il personaggio di una fintech e quindi rialzo un po' il tono dicendo un posticino per me noi siamo una fintech che fa lending, poi adesso vi spiego come e una delle poche, una delle prime fintech italiane che è entrata nel mondo dell'intermediazione della finanza penso che ne seguiranno altre ma noi siamo il rompighiaccio da due anni operiamo sul mercato e stiamo per diventare probabilmente quella che ha fatto volumi più grossi come fintech siamo sulla frontiera avanzata quindi la prima cosa abbiamo rottamato il powerpoint non vedrete slide come le chiamano, tavole come le chiamo io andiamo su onde neurali wireless, cioè mi ascoltate e io vi racconto delle storie mi tocca dirvi cos'è working voice che potete trovare ovviamente digitalmente ho appena chiamato a buttare via la fotocopiatrice e devo farlo alle sei di sera in un modo perlomeno divertente allora noi siamo un sito di incontri voi state pensando a delle cosacce siamo un sito di incontri in cui si incontrano indifferentemente da genere due soggetti uno è un'impresa tendenzialmente piccola che ha bisogno di liquidità l'altro è un investitore quindi uno di quelli che interessa a voi che ha liquidità ma non sa come investirla senza portare a casa dei tassi negativi non si conoscono nel sito di incontri evidentemente interagiscono si scambiano una stretta di mano digitale e lo scambio che avviene è uno scambio di una fattura un oggetto che è vecchio come il monte dei paschi o le banche principali quindi i mercanti questi signori si scambiano una fattura noi facilitiamo l'incontro e lo scambio di fatture in cui uno cedendo una fattura a 90, 120, 150 giorni ottiene liquidità che usa immediatamente per andare a pagare un altro fornitore o a fare l'F24 che è in arretrato e l'altro signore aspetta 120 giorni che la fattura venga pagata e porta a casa per la sua pazienza un rendimento la merce che io discuto e che vedo e che stiamo trasformando in quello che voi chiamate un asset class sono fatture di cose vere di cose reali di tutto e di più non avete mai visto una fattura di 83 mila euro di piovre io l'ho vista l'altro giorno ho cercato di capire quanto sono le piovre sono credo 15 bancali di piovre questa è economia reale ma c'è qualcuno che fa una fattura di 83 mila euro di piovre e viene pagato però a 90 giorni e vorrebbe anticipare perché ha una grossa sete di liquidità quindi due interessi che si conciliano in un posto nuovo virtuale molto digitale ma che in fondo ragionano di cose molto terrene molto concrete in questo scambio c'è un signore che paga un prezzo o se volete come vi piace di più un tasso e uno che lo badagna e se io vi dico che il signore che è il vostro interesse se vi dico che questo signore comprando fatture a 70 giorni si porta a casa il rendimento dell'8% forse del 9% voi cominciate ad alzare le antenne noi stiamo creando un asset class con 70 giorni di duration e con un rendimento del 9% su base annua chi chi ha in mente un asset class che rende questo che non sia nei dintorni dell'usura alzi il dito ma la nostra non è usura sono fatture reali emesse da imprese che vanno all'interno dell'economia reale dov'è il trucco? non c'è nessun trucco maledizione non siamo dei maghi il problema è che le piccole imprese pur di avere i soldi sono disposte a pagare quei tassi perché l'alternativa o non ce l'hanno o se vanno in banca è anche più costosa e se chiedono al cliente di essere pagati prima sconto cassa 3% su due mesi che se lo moltiplicate per 6 fa 18% quindi di tutte le alternative che hanno quella di pagare l'8% per avere i soldi prima è probabilmente la più ragionevole e ci sono 500.000 di questi animaletti piccoli che sono gli artigiani delle piccole imprese che sono mediamente interessati ad avere liquidità in via anticipata siamo una fintech siamo dei mercanti un sito non lo so però questa cosa funziona perché ha delle basi molto concrete e se ci pensate come asset class perché poi io ho la sensazione che tutta questa cosa interessantissima mi è piaciuto tantissimo però mi sembra una guerra tra poveri qui si discute poi di commissioni non commissioni su rendimenti vicino allo zero noi continuiamo a incontrare investitori che sgranano gli occhi quando vendono il rendimento che esce da queste fatture di piovra o di lavorazioni metalliche tutto quello che fa questo magnifico paese da un punto di vista imprenditoriale quindi questa è la storia perché bisogna stare nel mondo dello storytelling questa è la storia di come nasce l'idea su rifare delle cose che si facevano in 500 anni in modo io sono stato tanti anni in banca e la legge che vigeva era e temo che sia ancora ma si è sempre fatto così perché vuoi cambiarlo noi l'abbiamo cambiato in modo molto semplice tiriamo dritti dei tubi che loro fanno storti quando dobbiamo fare una notifica schiacciamo un tasto parte una PEC in banca vanno ancora a fare la raccomandata imposta non so bene per quale motivo però non è tutto così facile e semplice perché che cosa hanno o cosa non hanno le fintech che invece gli incumbent dicono quelli della consulenza noi non siamo non abbiamo reputazione noi non siamo conosciuti e quando si parla di soldi che sia per investirli o per prenderli c'è un tema di fiducia che è molto importante il sito di incontri non è un sito web il sito di incontri è come Airbnb quella è la mia idea di community anche finanziaria perché su Airbnb chiunque l'abbia usato sa benissimo che va a vedersi tutte le informazioni per capire se il padrone di casa diciamo è uno che si comporta bene che risponde in fretta ho degli elementi che creano la fiducia e dall'altra parte il padrone di casa vede il rating di quello che l'ha affittata perché dopo che ne ha distrutte due probabilmente la terza non gliel'ha affitta più nessuno noi abbiamo lo stesso problema se vogliamo creare un asset class trasformando la fattura della piovra in un investimento noi dobbiamo spiegare agli investitori dobbiamo dargli un ambiente molto più complesso che non è sempre digitale abbiamo capito quali sono i vantaggi del digitale ma anche i limiti non saremo mai una cosa completamente algoritmica mai una cosa completamente digitale perché ci sono delle cose che non si possono digitalizzare fanno parte di un processo in cui noi creiamo la fiducia da entrambi i lati e ci vuole del tempo perché poi la piattaforma la community cresce va bene si sviluppa se ci sono gli incontri quindi devono arrivare le piccole imprese non è una cosa scontata devono arrivare gli investitori gli investitori ci sono i pionieri che sono quelli che sono arrivati da noi adesso e cominciano ad essere istituzionali noi lavoriamo con soldi di fondi in questo momento e poi arriveranno degli altri gli ultimi saranno i più conservativi gli ultimi saranno probabilmente i fondi pensione che hanno il problema più grosso perché non riescono a trovare dei rendimenti oggi noi i rendimenti li diamo e li diamo con un profilo di rischio che devono capire perché il profilo di rischio delle fatture italiane non è più alto di quello che è un portafoglio di corporate bond anzi credo che sia più basso perché la media delle fatture non pagate in Italia è il 3,5% noi le selezioniamo quindi si suppone che si va sotto quel 3,5% ecco questo è diciamo la storia di working voice dentro o fuori l'ambito di quello che avete discusso oggi è l'asset class è una trasformazione di un bisogno dell'economia italiana perché sottostante c'è un problema gigantesco di liquidità in questo paese 60 miliardi di crediti non pagati dallo Stato circa 100 miliardi di credito bancario tolto in 4 anni e imprese che si pagano mediamente a 60 giorni mediamente più altri 20 giorni di ritardo questo è carenza di liquidità strutturale del sistema però c'è un'industria del risparmio di cui voi siete interpreti che ha disponibilità ma oggi sta cercando con o senza il robot advisor dei rendimenti noi ci stiamo provando siamo già arrivati a 20 milioni di scambio di fatture abbiamo tassi di crescita inimmaginabili per qualsiasi altra cosa ci battevano solo le sofferenze bancarie credo adesso si sono si sono calmate però non è così tutto digitale così semplice grazie 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 grazie